Stiamo levando un pochettino di materiale che c'era nell'appartamento occupato e i lavori non si fermano più a questo punto. Subito dopo l'allontanamento dell'artista Uwe che occupava alcuni spazi di Palazzo Mazzarino sono partiti i lavori di restauro. Una protesta portata avanti per anni ma che ormai serviva soltanto a rallentare quello che doveva essere il restyling di uno dei palazzi più antichi della Vucceria. Restyling che adesso è partito e sulle polemiche mosse dall'artista della poca trasparenza sui lavori i titolari del restauro rispondono così. Tanto per chiarire gli equivoci, nessun finanziamento europeo di nessun tipo cioè noi lavoriamo con i soldi nostri, abbiamo questo vecchio finanziamento che abbiamo ereditato dalla vecchia proprietà, nel 2006 aveva avuto questi 415 mila euro noi assieme al condominio partecipiamo a questo finanziamento nella nostra quota parte di questi 415 mila euro. Questi palazzi sono disabitati dal 1990, sono passati 38 anni, non ci abitava nessuno, escluso l'occupante e il nostro obiettivo è ripopolare la piazza, ridare una dignità alla piazza. Una premessa che è importantissima, noi quando siamo intervenuti come società abbiamo chiesto a tutti i proprietari di rimanere assieme a noi a realizzare questa impresa. Per rilanciare la Vucceria non servono soltanto le proteste, servono i fatti ed è quello che i cittadini, i residenti e i commercianti del quartiere hanno più a cuore. Per questo la Giunta Comunale di Palermo ha deciso di scendere in piazza per dare un segnale di presenza e di ascolto delle persone coinvolte nel rilancio di uno dei più importanti mercati storici della città. Occorre che ci sia una grande collaborazione tra residenti ed operatori economici occorre che si renda conto che il mondo è cambiato, si renda conto che esiste adesso una trattiva internazionale di questa realtà, di questa nostra città e occorre riportare la Vucceria ad essere quello che un tempo era il cuore pulsante di questa nostra città.